Hola pepeños, che tal? Benvenuti in questo nuovissimo video! Oggi iniziamo il lunghissimo discorso sulle preposizioni spagnole. La preposizione A, oltre ad esprimere complemento al luogo, poi A, Italia e il meso che viene, è usata o meno anche nei seguenti casi. È obbligatoria con i nomi propri di persona quando sono complemento diretto e, come vedremo nel secondo esempio, con gli appellativi quando si riferiscono ad una persona in concreto. Admiro a Salinas. Dejarà a suo padre e a sua madre. Non si usa davanti a nomi di professione, gradi di professione e nomi di città quando sono complemento oggetto. Il re ha nombrato los oficiales. Visite Madrid l'anno passato. Per questioni stilistiche o perché semplicemente volete, basta, possiamo sostituire A alle seguenti preposizioni. Hasta, passò il rio con l'acqua alla fintura. Contra, se volviò alla parè. Según, a lo che mi dices è llegato tardi. Iscriviti al canale se non lo sei e attiva la campanella qui sotto per ricevere i prossimi aggiornamenti. Io sono qui ogni mercoledì e domenica con un nuovissimo video. Hasta luego!